Laudetur Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 20 giugno 2020 per il nostro consueto commento del giorno. Molti di voi saranno stati informati di questa iniziativa, di questo appello accorato di preghiera rivolto dal Presidente del Movimento Mariano Regina dell'Amore Mirko Agerde e a tutti coloro che devoti della Madonna vorranno nei tre giorni tra il 19 e il 21 giugno partecipare a questo appello di preghiera attraverso soprattutto la recita del Santo Rosario affinché, dice proprio Mirko Agerde nell'appello, tutti i progetti di Satana e dei suoi coadiutori siano smantellati e distrutti e venga presto il trionfo del cuore immacolato di Maria. Questo appello, cari amici, si rivolge appunto a tutti coloro che sono sensibili perché? Perché ci troviamo in una congiuntura particolare che va dal 19 al 21 e poi anche il 24 giugno, in cui tutti gli adepti di Satana, cioè tutti coloro che in qualche modo partecipano di questa antichiesa satanica, si riuniscono per compiere riti demoniaci e impetrare proprio l'attacco frontale, la distruzione del cristianesimo, lo sdradicamento della civiltà cristiana in una serie di riti demoniaci e infernali che sono rimbalzati in questi giorni sui social attraverso proprio una serie di comunicazioni che danno l'idea di come ormai le forze degli inferi si stiano smascherando e manifestando nella loro essenza per quello che sono. Penso sia utile riportare alla nostra attenzione alcune informazioni. Io, guardate, non voglio assolutamente soffermarmi sulla descrizione di questa chiesa satanica che è qualcosa di terrificante, su cui solo, guardate, approfondire il tema mi lascia veramente inorridito, ma qualcosa devo dire per l'amore della verità e perché tutti voi sappiate di che cosa stiamo parlando, perché sono gruppi, questi gruppi satanici che hanno continuato a espandersi nei secoli e a distribuirsi sempre in maniera più capillare nei vari stati fino ai giorni nostri. E coloro che naturalmente studiano queste tipologie di sette demoniache sanno in che modo e in quali modalità queste si diffondono, con quali ritualità e con quali metodologie. L'Italia, tenete presente, che è fra i paesi occidentali coinvolti nella proliferazione e nella diffusione delle sette sataniche, perché sin dall'Ottocento in Italia si è diffusa l'idea che Torino fosse la capitale del satanismo e questa credenza è nata quando, soprattutto tra il 1850 e il 1870, il governo piemontese massonico che poi regnò in Italia entrò in conflitto con la Chiesa Cattolica e mise in atto una politica di tolleranza del liberalismo, una politica di scristianizzazione e di laicizzazione in cui si lasciava libero campo agli spiritisti, ai maghi, ai gruppi paraleligiosi, tra cui alcuni che praticavano vere e proprie evocazioni diaboliche. E da qui nacque proprio la convinzione che Torino fosse la città del demonio. Poi dopo il 1890 Torino cessò di avere l'atteggiamento di tolleranza che l'aveva caratterizzato e quindi si disse, perlomeno coloro che studiavano il fenomeno, disse che questa regia dell'occulto si spostasse in altre zone d'Italia come Roma, Milano, Firenze e poi Napoli. Tra le varie tipologie di sette che oggi esistono e proliferano, quelle sataniche sono generalmente considerate le più pericolose, soprattutto a causa del carattere assolutamente infernale che contraddistingue ogni componente che le frequenta e più le pratiche ritualistiche di morte che soprattutto alcune mettono in atto. Queste sette sataniche sono gruppi organizzati in modo gerarchico, perché al vertice c'è un capo che fa da tramite tra il gruppo e il demonio e oltre agli adepti abituali ci sono anche gli adepti accessori, che sono spesso purtroppo donne e bambini che vengono plagiati, suggestionati da questi diciamo più anziani attraverso manipolazioni psicofisiche e vengono utilizzati nei rituali satanici soprattutto di tipo sessuale. E vengono purtroppo molto spesso adoperati i bambini per compiere questi riti demoniaci e infernali, di cui qualcosa avete già saputo perché in una passata trasmissione ho parlato anche di questo rito infernale dell'adreno crono che si sta diffondendo in questi ambienti satanici che sacrificano questi bambini attraverso il terrore per tirare fuori questa sostanza di adrenalina e sangue mescolata prima della loro morte che viene poi utilizzata da questi abdetti nella convinzione di aver trovato l'elisir della lunga vita o della rigenerazione dei tessuti. Pensate che tutte per esempio le correnti pedofile che hanno utilizzato i bambini soprattutto in questa diciamo filosofia che faceva capo degli psicanalisti soprattutto tedeschi negli inizi del novecento e si basa proprio su questo legame misterioso tra queste sette esoteriche spesso sataniche questa nuova visione che era una visione del mondo pansessualista che vedeva nella pedofilia quindi nell'utilizzo dei bambini a scopi sessuali una delle pratiche più importanti. C'erano due personaggi, li cito soltanto ma ne parlerò diffusamente in una prossima trasmissione, che erano due tedeschi, due psicanalisti, un certo Willemann Reich che è vissuto ai primi anni del novecento e poi anche un altro diciamo adepto di questo Willemann Reich che era uno psicologo che si chiamava Helmut Kentler, tutti e due tedeschi e tutti e due che teorizzavano proprio la pedofilia, addirittura scrissero molti libri, scrissero molti articoli in cui proprio propugnavano una nuova regolazione della vita sessuale attraverso le mosse di una diversa educazione dei bambini. Insomma ai più piccoli andava consentita una libera espressione della sessualità e imposta un'educazione che era liberamente consentita di approcciarsi agli adulti come un'esperienza positiva. Quindi veniva teorizzata ogni tipo di liberazione sessuale dei bambini per poterli diciamo lasciare nelle mani di questi personaggi che poi naturalmente come molestatori e seriali molto spesso li disintegravano, li distruggevano fino al punto di annullarli in molti casi con abusi che sono indecifrabili e osceni e terrificanti. In alcuni casi questi signori li facevano vivere come reclusi separati dal mondo esterno e per fare tutto questo percepivano assegni da parte delle autorità tedesche che li affidavano a loro. Qualcosa che ci ricorda un po' quello che è successo anche in Italia col sistema bibiano cari amici di cui dobbiamo ricominciare a parlare perché tutto trae la sua origine da queste scuole psicoanalitiche tedesche. E poi resta ancora da capire in Germania come le autorità abbiano potuto tollerare simili cose e come mai nessuno abbia controllato. Ma vedete in Italia non succede qualcosa di diverso, siamo sempre su quella linea d'onda che si ispira e si rifà a questo tipo di ideologie perverse. Ma ripeto di questo ne parleremo in maniera più dettagliata perché questo fenomeno appunto del satanismo è qualche cosa che viene praticata attraverso anche una manipolazione mentale che diciamo si sviluppa all'interno delle sette sataniche con una strategia di relazione che viene utilizzata per distruggere totalmente l'identità dell'individuo. C'è una forma di questo satanismo che è quella occultista che rappresenta la corrente principale e afferma l'esistenza di Satana come essere personale in forma di spirito individuale invocato dai suoi esseri guaci, adorato, onorato come Dio e a cui si consacrano questi adepti e gli chiedono potere e dominio sugli altri, appagamento di ogni desiderio e anche poi naturalmente raggiungimento di obiettivi che sono sempre quelli a cui si ispira anche la massoneria, che sono il raggiungimento del potere, del successo, del denaro, del sesso e tutto quello che ne viene dietro. Oggi si parla anche di questo culto luciferino che è qualcosa in cui si prefigura sempre di più e si mette a fuoco questa figura che è il culto centrale di Lucifero considerato nelle dottrine soprattutto catere, l'angelo che era stato ingiustamente cacciato dal cielo e di cui si attendeva il ritorno in terra. Quindi Lucifero da queste sette viene venerato come principio del bene, capite? In opposizione al Dio del male, creatore del mondo. Quindi è il capovolgimento totale di quella che è la verità cattolica. E questo perché Dio ha voluto negare agli uomini la conoscenza, dicono questi adepti di Satana, che invece avrebbe offerto a Lucifero sotto forma di serpente dell'Eden. E in questo percorso, vedete, ci sono appunto delle date simboliche che gli adepti di Satana seguono, come date in cui celebrano i loro culti, rituali, oltre che nei sabati e nelle notti di luna piena, anche durante altre notti dell'anno e corrispondono alle loro festività. Ne cito solo qualcuna perché di alcune ne sentite parlare ogni anno, ormai anche in Italia, come il 31 ottobre, la commemorazione dei defunti, di tutte le potenze e le tenebre, il famoso festa di Halloween, no? Questo giorno considerato il capodanno di Satana perché, secondo un'antica credenza popolare, le anime dei defunti tornano in visita nelle proprie case, per cui è possibile stabilire un contatto con loro. Ma poi ce ne sono altre, il 21 dicembre, che è il sostizio d'inverno, e secondo la tradizione pagana, gli spiriti dell'aria e dell'acqua infuriano dappertutto, fino ad arrivare poi al 24 giugno, il 21 giugno, anzi sostizio d'estate, che quest'anno viene celebrato da queste sette sataniche, e poi naturalmente tutta una serie di altre date che io qui non voglio ricordare, non voglio citare perché è qualche cosa veramente, guardate, di disgustoso e di terribile. E in questo, diciamo, in questo contesto, dicevo inizialmente, cari amici, che c'è un appello urgente di preghiera, perché soprattutto in questi giorni abbiamo il dovere, il dovere morale, e anche il dovere, come cristiani seri, di pregare, riparare e chiedere una protezione speciale alla Madonna, a San Michele Arcangelo, al Sacro Cuore di Gesù, all'Immacolato Cuore di Maria, perché proteggano le nostre famiglie, le nostre persone e debellino queste sette sataniche che stanno imperversando in tutto il mondo. Cari amici, ricorriamo anche ai sacramentali, dell'acqua benedetta, l'acqua esorcizzata, accendiamo le candele benedette in questi giorni, invochiamo l'intervento degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, dei serafini, della Santissima Vergine Immacolata Corredentrice, proprio San Michele Arcangelo, come capo della milizia celeste, proprio per chiedere questo intervento del Signore, in questo passaggio decisivo della nostra storia, che vede anche un aspetto simbolico nella partenza di Benedetto XVI, che nella giornata di ieri ha lasciato Roma per andare in Germania a visitare suo fratello, che in questo momento sembrerebbe in fin di vita, ma di fatto anche questa assenza in questa data simbolica è qualche cosa che osserviamo, perlomeno osserviamo con molta attenzione. Vedete cari amici che ormai la battaglia tra il cielo e la terra diventa sempre più esplicita, diventa sempre più chiara, le forze dell'inferno sono scatenate, si sono tolte la maschera, manifestano chiaramente le loro intenzioni, svelano i loro intenti e celebrano il loro culto, ma nello stesso tempo non dimentichiamo che l'Immacolato Cuore di Maria trionferà molto presto e che le schiere degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, dei serafini, tutti gli ordini celesti degli angeli sono pronti a entrare in battaglia e probabilmente in questo momento San Michele d'Arcangelo, alla testa delle milizie celesti, si prepara a questa grande battaglia attendendo solo l'ordine di Colei, che è la regina degli angeli, perché dica andate, è il momento di entrare in campo con tutta la potenza del cielo e con tutta la forza che Dio sprigionerà in questo passaggio decisivo che ci proietta ormai sempre più velocemente verso il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. In questo spirito di riparazione, di richiesta di aiuto, di intervento al cielo, cerchiamo anche, cari amici e ascoltatori, di nutrire una fiducia incrollabile, una fiducia soprannaturale, perché l'ora di Dio si avvicina sempre più velocemente. E in questo spirito auguro a tutti voi una buona giornata. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur hullare. Grazie.